Un governo che non è capace di approvarsi il bilancio è un governo che non c'è più. Lo ha detto anche il Presidente Napolitano, non bastano i voti di fiducia, bisogna dimostrare di saper governare ogni giorno. Questo governo non è più in grado e la crisi di governo ormai è aperta già di fatto. Noi crediamo che ormai la strada delle elezioni anticipate sia una strada inevitabile, l'unico spazio politico è per un governo che in tre o quattro mesi riscriva la legge elettorale prima del voto.